Junior uccide Goku insieme a Radish. Junior uccide Goku non perché il suo obiettivo principale era quello di ucciderlo per conquistare il mondo, ma perché doveva fermare l'antagonista Radish, quindi l'unico modo per fare questo era colpire sia Radish che anche Goku, dato che lo doveva trattenere affinché non si liberasse. Una volta che entrambi sono stati uccisi dal cannone speciale, Radish prima di morire dice a Junior che tra un anno sarebbero arrivati altri Saiyan più forti di lui e che, una volta conquistato il mondo, lo avrebbero fatto tornare in vita grazie alle sfere del drago. L'episodio si conclude con Goku che decide di andare a trovare Rekkaio per l'allenamento e con Junior che decide di allenare Gohan affinché possa rivelarsi utile nel combattimento contro i due Saiyan.